Buongiorno a tutti, come già detto lo speaker mi chiamo Fabrizio Lori e vedo davanti a me una serie là e questa è una lettera che io ho amato tantissimo però ho anche odiato e adesso cerco di spiegarvi il perché. Era lontano 2004-2005, parliamo di quasi 15 anni fa e i dirigenti del Mantova di allora mi chiesero una sponsorizzazione. Io lì per lì dissi ma no non sono interessato così poi ho detto ma quasi quasi far qualcosa per la città perché allora non era come oggi che c'è il basket, c'è il calcio, allora c'era solo il calcio, era un calcio un po' era in serie C2 insomma ed io dissi vabbè dai quasi quasi mi butto ma più per far qualcosa per la città ma non pensando assolutamente che sarebbe diventato quello che è diventato questo entusiasmo. Comunque partiamo col primo anno di serie C, si crea un entusiasmo fantastico perché la squadra poi andava bene, io naturalmente mai avrei pensato di superare su e andare subito in serie B, no? Anche perché erano 35 anni che non si andava. Qui c'è una bellissima foto dello stadio per dire l'entusiasmo, perché lì cosa si era creato? Si era creata una fusione tra la città, i tifosi, i giocatori, si parlava solo di questo Mantova e da lì si arrivò a questa benedetta serie B che era 35 anni che non si andava in B, per cui per Mantova era un evento. Primo anno di serie, ecco questa è una foto che a me è particolarmente cara, guardate lo stadio che era veramente in gergo si dice bombato perché era quasi la bombonera e appena andati in B molti tifosi, soprattutto qualche ultra mi chiese subito andiamo in A, ma che andiamo in A, 35 anni che non stiamo in B, rimaniamo almeno in B, no? Fa sì 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 va bene va bene. C'era un po' la paura nei giocatori perché insomma era un'altra categoria, erano altri giocatori, c'erano altre squadre importanti tipo Atalanta che adesso vedete cosa sta facendo in serie A, incredibile, il Torino, che faccio fatica a dirlo, Torino, vabbè, poi c'era il Catania, comunque c'erano un sacco di squadre blasonate, noi in fin dei conti Manto era una piccola città, aveva 48 mila persone in confronto di Torino, Berrio, Bologna e insomma partiamo come dei razzi, arriviamo, io mi ricordo la prima partita che abbiamo perso e magari qualche mantovano se lo ricorderà, è stato in dicembre l'ultima di campionato contro il Pescara, battendo tutte le varie, e questa qui è la classifica della serie B del girone di andata, cioè il girone invernale, c'era Mantua 42, Catania 40, questo non riesco a dirlo, Atalanta 38, ma incredibile, infatti arriva la chiamata di Sky, guardate bene, mi chiama Sky, direttore, adesso mi è passato tanto tempo, poi sono invecchiato, non mi ricordo, mi fa, ma Fabrizio guarda ci dobbiamo incontrare perché dobbiamo firmare il contratto per la serie A, ma io per realtà aspettiamo un attimo perché è ancora presto, no fa, perché guarda non è mai successo che una squadra che è arrivata nel girone di andata, prima in classifica, non sia andata in serie A, ecco non era mai successo fino allora, infatti ho toccato Fè, cos'è successo? Siamo andati, siamo rimasti in serie B, purtroppo, e non è più successo neanche dopo, cioè negli 80 anni, 90 anni di serie B, l'unica volta che una squadra arriva prima nel girone di andata rimane in serie B, qual è stata la squadra? Il Mantua, vabbè, vabbè non importa, comunque insomma, ecco qui facciamo i playoff, che molti mantovani sono messi, li ricordo, io mi ricordo come se fosse ieri, giochiamo contro il Modena, grande partita, andata e ritorno, andiamo in finale col Torino, giochiamo la prima in casa, vinciamo 4 a 2, siamo già vicino al sogno, quel sogno che io sinceramente non avrei mai sperato che potesse succedere, però stava succedendo, fatalità, cosa succede? Che quella settimana lì, dopo il 4 a 2 che abbiamo giocato in casa, una partita, forse la più bella partita che ho visto giocare dal mio manto, diciamo, avessimo avuto anche il Real Madrid, abbiamo vinto anche contro il Real Madrid, comunque giochiamo benissimo, esce sulla gazzetta, titolone, scandalo, scommesso, calciopoli, praticamente Juventus retrocede in Serie B, dico no, non è possibile, noi andiamo lì a Torino, facciamo questa partita, diciamo, tra virgolette, onesta, ma non era una partita, era una partita che era già sulla carta, c'era qualcosa che non andava, perché Mantua era una piccola città, Juve e Toro non potevano rimanere in Serie B o andare in Serie B a scapito di un Mantua in Serie A. Quindi la partita fu, a dir poco, scandalosa, con un arbitraggio, posso dire, improbabile per essere gentile, e lì si rimase in Serie B. Purtroppo, grandissima delusione, perché sarebbe stata una favola, e sarebbe stato il bene anche per il calcio italiano, questa favola, di questa piccola società che parte della C2, in tre anni, va in Serie A. Vabbè, comunque è andata così. Il giorno dopo mi ricordo una tristezza infinita, io piansi, mi ricordo, perché alle Alpi piansi, come la maggior parte dei tifosi del Mantua, perché sapete, non è facile poi ripetersi. Comunque poi, secondo anno di B, abbiamo Juventus, Napoli e Genova, cioè le squadrette della parrocchia. E vabbè, dico, vado al calcio, in settembre vado al calciomercato, perché c'è il calciomercato, e dico, ma vediamo qualche giocatore per poter stare la squadra, perché fino di quando la squadra era già arrivata, diciamo che noi ci siamo andati in Serie A, poi non ci ha permesso di andare, però adesso non sono qui per dire cose che poi… Vabbè, incontro un giornalista, sempre di Skype, perché si vede che… e mi dice, ma Presidente, non prenda nessuno quest'anno? Dico, perché non devo prendere nessuno? Scusi, siamo arrivati in finale e in Serie B. Probabilmente io ci tengo a provare ancora ad andare in Serie A, ma no, guardi qua, quest'anno non spenda niente, perché tanto andranno in Serie A la Juventus, il Napoli e il Genova. E probabilmente non si faranno neanche i play-off, non diciamo, o è successo così. Prima volta nella storia del calcio che Juve, Napoli e Genova vanno in Serie A, noi siamo arrivati quarti o quinti, abbiamo fatto un campionato eccezionale, però una cosa siamo riusciti a farla. E adesso vi voglio far vedere cosa. Prego, video. Grazie a tutti. Grazie. Non so se fu il punto più alto della mia gestione, fu una grande soddisfazione questa vittoria, ma questa vittoria ha dimostrato, era due anni che non perdeva la Juve, poi c'erano tutti i campioni del mondo, erano prima finiti mondiali, per cui c'era, avevamo tre Seguet che anche si giocava nella Francia, giocava a Juventus, Del Piero, insomma tutti. E abbiamo dato la dimostrazione, soprattutto alla Lega, che noi eravamo una squadra da Serie A. Questo è stato, e per questo i ragazzi ci ha messo il cuore e abbiamo vinto questa partita. Poi sono passati anni diciamo abbastanza tranquilli. Ho fatto altri tre anni di Serie B, che già vuol dire fare cinque anni di B non è poco per una città come Mantua. Poi nel 2010 ci fu un particolare un po', insomma avevamo una buonissima squadra, però non capivamo. Io mi ricordo allora c'è l'allenatore Serena, che magari qualcuno si ricorda, che ci mettevamo a tavolino dicendo ma come mai non riusciamo a vincere una partita, non si capisce, non si capisce. Finale della favola, retrocediamo perché arriviamo penultimi, terzo ultimo, insomma retrocediamo, non capendo. Poi lì è stato un capitolo, c'è stato poi il fallimento, c'è stato un capitolo diciamo abbastanza brutto della mia vita, oltre alla delusione di questa... Poi dopo due anni si venne a sapere che noi eravamo falliti perché avevamo dei giocatori che ci vendevano le partite e lì è stata la più grossa delusione della mia vita perché quando ti senti tra virgolette tradito, ma tradito tu cerchi di fare il più possibile e poi hai qualche uno o due giocatori che tradiscono la tua fiducia, vabbè, forse qualcuno può capire cosa ho provato in quel momento. Infatti per alcuni anni non ho voluto avere niente più a che fare col calcio perché ero, tra virgolette, non so se si può dire schifato, e forse è dire poco schifato, ero nauseato da questo mondo perché è un mondo un po' così. Poi insomma dopo qualche anno mi è un po' passata e ho deciso con la mia compagna, che saluto, ciao Elena, di fare questa piccola accademia di calcio dilettantistico con i bambini dai 4 ai 12 anni per insegnare loro, e queste sono le foto dei bambini, insegnare più che a diventare campioni, a insegnare a vivere e a divertirsi perché il calcio deve essere un divertimento, se iniziare a diventare solo uno pensa vado faccio il calciatore perché così guadagno un milione di euro, allora è meglio non farlo. E Fiora all'occhiello, oltre a questa piccola accademia, con AS Diverso, che è una società qui di Mantova, di disabili, abbiamo fatto una fusione e abbiamo creato questo, questa è la squadra favolosa, questa squadra che si chiama Accademia Fiorizio Loria AS Diverso, e quest'anno per la prima volta abbiamo fatto la Serie B a Milano. Noi naturalmente siamo una piccola realtà e ci siamo scontrati contro realtà come ad esempio Inter, Genova, Fiorentina, che sono tutte affiliate alle squadre professionistiche. L'Accademia Fiorizio è affiliata alla mia Accademia, per cui noi andavamo con i pulmini, io ne guidavo uno e Riccardo guidava l'altro, loro invece arrivavano con i pullman della società dell'Inter. Abbiamo fatto un campionato eccezionale, mi venivano i brividi perché mi veniva in mente il mio Mantova di allora. Abbiamo vattuto l'Inter, Genova, Fiorentina, insomma praticamente siamo arrivati terzi in classifica. Sapete in quanti vanno su? Due. Vabbè, ma non importa, perché poi abbiamo ricevuto il premio più bello che un presidente potesse ricevere. Torneo di quattro, questo è il premio Fair Play, erano 45 squadre, l'hanno dato a noi, forse perché gli abbiamo fatto pena, non lo so, però probabilmente, no, probabilmente comunque penso che ci daranno il diritto, me l'hanno già detto però finché non c'è l'ufficialità, perché praticamente prima, seconda, terza, poi c'era la quarta che aveva un divario di punti impensabile, per cui secondo me ci faranno andare, perché io prima o poi in quest'A ci voglio andare, no, scusate. E comunque è un altro modo di vedere le cose, però mi hanno dato delle gioie questi ragazzi, io li chiamo ragazzi speciali perché per me sono veramente speciali, anzi vi do di più, ho imparato molto di più io da loro in quest'ultimo anno che loro da me, perché mi hanno dato un senso di leggerezza e di felicità che era tanti anni che io non provavo. Niente, io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato e vi ringrazio di avermi ascoltato. Grazie.